Ciao ragazzi, oggi voglio parlare di Eromask, che è questo occhiale virtuale dove all'interno si inserisce il vostro smartphone per poter imparare le lingue. Questo è stato fatto proprio per questo, infatti c'è un codice univoco per poter sbloccare il gioco. In particolare si potrà imparare l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'italiano, il tedesco, il cinese, quindi potete far divertire i vostri bambini in un'esperienza unica. Vi faccio vedere all'interno, basta appunto scaricare un'app, mettere il codice che si trova all'interno, inserire il telefonino all'interno dell'occhiale e poter giocare. Vi faccio vedere qui nel dettaglio, quindi qui c'è il codice qui sotto, poi qua abbiamo le istruzioni con le app da scaricare, quindi vale sia per iPhone che un telefono Android, qui abbiamo per pulire gli occhiali. Allora, come potete vedere qui all'interno viene chiuso, ma poi viene aperto per mettere all'interno qui il telefonino. Qui va a regolare il tutto, le lenti sia avanti che indietro, ingrandire. E qui dietro abbiamo tutto il resto che va attaccato, questo dietro la testa del vostro bambino. Semplicemente fantastico, un'idea regalo per i vostri bambini per poter imparare le lingue divertendosi. Grazie a tutti.